Per la fase 2, fondamentali sarebbero i tracciamenti, no? Allora, tutti concordano sul fatto che per una vera riapertura in sicurezza servirebbero test, test, test. Ora, in Lombardia siete un po' più all'avanguardia che da altre parti in Italia? No, siamo nella retroguardia assoluta. Tu sai, il sindaco Sala ha deciso di compiere uno studio insieme al professor Galli, che ormai tutti conosciamo, sui conducenti dell'ATM, quindi quelli che guidano i tram e gli autobus di Milano. Sai dove vengono analizzati questi test che vengono fatti a Milano sui guidatori degli autobus di Milano? In Francia, a Grenoble. Sai perché li fanno in Francia? Perché in Lombardia non è ammesso. Cioè, in Lombardia decidono le aziende territoriali sanitarie, ATS, decidono loro a chi farlo, a quali categoria. Ma se un'azienda vuole scoprire, attraverso il test, se il personale ha passato il coronavirus, ha conosciuto il coronavirus, il test serve a quello, semplicemente non può farlo. Ma la Lombardia è talmente stata decisa in questa cosa, che ha anche scoraggiato, devo dire, gli imprenditori e un comune come Milano a rivolgersi al Veneto, all'Emilia. Sono finiti in Francia. Ce ne occupiamo domani sul Corriere. Simona Ravizza, che si è molto occupata di sanità, andrà anche lei e se ne occupa anche lei. Allora, tu capisci la situazione? Cioè, io, come fa il ristorante a aprire? Voglio, hai sei dipendenti, vuoi fare il test a tutti. Test serologico, certo. Armani è andato in Francia a fare i test. Armani.